Siamo in compagnia di Mario Punzo, il direttore della Scuola Comics Italia, che questa sera ha aderito al progetto No alla Droga qui al Privat One. Allora chiediamo subito a lui innanzitutto buonasera e come è venuta questa idea, questo bel messaggio in un locale di giovani di No alla Droga? L'idea è nata da Michela e Antonio, che lavorano proprio al Privat Uno, sono venuti a scuola a chiedermi un'adesione a questo messaggio contro la droga. I ragazzi si sono impegnati a realizzare queste tavole per sottolineare il messaggio di No alla Droga. Quindi appunto unire l'arte, quindi i ragazzi che disegnano con la sua scuola, a questo forte messaggio di prevenzione, in particolar modo, come dicevamo poc'anzi, in un locale di giovani, frequentato da giovani, che si possono divertire anche senza far uso di stupefacenti. Ma certamente questi messaggi servono anche a sfetare un'idea negativa che siano delle discoteche, cioè le discoteche possono tranquillamente essere contro la droga e per un divertimento sano e pulito. Mocos, Notti Brave, il Privat One dice no alla droga? Sì, dice no alla droga e lo dice anche in modo non convenzionale. Diciamo che il nostro intento innanzitutto è quello di sfatare un mito negativo che è quello appunto di associare le discoteche a qualcosa di negativo appunto. Da un po' di anni abbiamo deciso di far divertire il nostro pubblico in maniera sana con lo spettacolo, con lo show e con la qualità del nostro pubblico. Perché ritengo che lo scopo finale che poi una persona esce è sicuramente intrattenere il proprio tempo libero, divertirsi o sorridere. Però è quello di conoscere altre persone, di fare nuove amicizie, di innamorarsi, di frequentarsi, di corteggiare. Per cui questo sicuramente ha un valore notevolmente superiore a qualunque sostanza stupefacente. E diciamo che la nostra sostanza stupefacente, l'unica che noi amiamo è l'adrenalina, che quella è naturale e viene da sé quando siamo felici, siamo energici e quindi va bene così, dai. No alla droga è il messaggio rivolto a tutti i ragazzi che amano il divertimento sano e puro. Io sono Stefano, questa è Notti Brave, a voi le immagini. Parliamo della nostra serata, il Sabo dal Private, appunto divertimento allo stato puro. Davvero non c'è, cioè, non voglio esagerare, però venire qui significa passare dei momenti molto molto belli. Questa sera abbiamo la fortuna di avere in console Marco Cortese, grandissimo DJ napoletano che suona davvero alla grande. I nostri ballerini avranno, l'animazione sarà appunto incertata sul tema no. Goldie says no. Sì, anche Goldie dice il suo no questa sera. A Prevattuano, spero che lo diciate tutti voi insieme a noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.